Gentili telespettatori, buona giornata. E così Matteo Salvini risponde alla Meloni. La Meloni dice che Salvini non è un problema. E Salvini risponde, Giorgia, governeremo cinque anni. E così blinda il governo, come si dice, blinda il governo. Perché il governo che problemi può avere? Il governo per cadere cade solo per motivi eventualmente interni, e non per motivi esterni. Perché avete visto che ormai i governi non cadono più. Una volta, quando c'era qualche piccolo problema, i governi si dimettevano. Oggi il potere non lo molla nessuno. Oggi avete visto che sono tutti ben ancorati alle poltrone, ben attaccati alle poltrone. Quindi i governi di destra e i governi di sinistra non si dimettono per nessun motivo. Se proprio costretti, ne fanno poi un altro di governo. Un governo simile, sempre dalla stessa parte politica. Quindi l'accaduto eventualmente di un governo Meloni può avvenire solo dall'interno, per problemi all'interno. Cioè Salvini o Tajani tolgono i loro voti e così il governo non ha più la maggioranza. Ma Salvini risponde, governeremo cinque anni. Il leader della Lega garantisce che non ci saranno ripercussioni dopo l'adesione del suo partito al gruppo europeo dei Patrioti. E Trump dice, spero vinca. Su Trump dice, spero vinca lui. Oggi Salvini, insomma, si è spostato nel partito Patrioti per l'Europa, quel partito dove ci sono tutti un po' gli estremisti in Europa, ha posizioni da sempre filoputiniane, adesso si oppone all'invio di ulteriore materiale a Kiev come Orban. Insomma, diciamo che Salvini ha spostato le sue posizioni più a destra, quindi mentre la Meloni si sposta verso il centro, Salvini si sposta verso destra. Qual è la cosa che funziona meglio? Ovviamente c'è più elettorato verso il centro che verso l'estrema destra. Quindi se ti sposti all'estrema destra, diminuisce sempre di più l'elettorato, mentre verso il centro è sempre più grande. Quindi la mossa della Meloni di spostarsi verso il centro è quella più intelligente, perché ti porta più voti spostarsi al centro che spostarti all'estrema destra. Se ti sposti all'estrema destra, il tuo partito vale il 3% se sei fortunato, vale l'1 o il 2% se ti sposti all'estrema destra. Se ti sposti verso il centro, il tuo partito arriva anche al 35%. Poi ci sono i casi particolari come Salvini che era arrivato al 35%, ma non perché si fosse spostato al centro. Lì era un voto di opinione. Votavano Salvini perché fermava le navi delle ONG, il braccio di ferro, e la gente lo votava perché era l'eroe che bloccava l'immigrazione clandestina. Quando lui è andato via dal Ministero dell'Interno sono andati via anche gli elettori. Questo per dirvi che non c'è da confondere il voto di opinione con il voto verso destra o verso sinistra, o verso l'estrema destra e l'estrema sinistra. Quindi la scelta di Salvini di portare il suo partito verso l'estrema destra non credo che sia propriamente vincente. dice che lui avrà pensato che la Meloni lascia il vuoto all'estrema destra perché si sposta al centro, quindi i suoi elettori di estrema destra lasciano Fratelli d'Italia, lui avrà immaginato che lasciano Fratelli d'Italia e vengono con me. Può anche essere, anche se non lo credo. Un elettore di estrema destra non va con Salvini perché se torniamo indietro nel tempo Bossi e compagnia cantante dove c'era dentro anche Giorgetti e Salvini non credo propriamente che un elettore di destra si riconosca nella secessione di quello che loro chiamavano il grande nord del resto dell'Italia. Non credo che l'elettore di estrema destra si riconosca nella Padania o in quelle cose che diceva Bossi e quando Bossi le diceva Salvini era lì. Salvini, Giorgetti e Calderoli erano lì. Erano i fedelissimi di Bossi. Quindi anche se l'elettore di estrema destra si reputa deluso dal governo Meloni perché non ha posizioni di estrema destra non credo che possa andare da Salvini. Quindi Salvini spostandosi all'estrema destra prenderebbe molti meno voti di quelli che lui immagina. Però come vi dicevo prima all'estrema destra i voti sono pochi. Sempre di meno, molto pochi. Quindi la mossa di Salvini di diventare un partito di estrema destra con posizioni orbaniane eccetera eccetera non so realmente lui dove creda di poter andare con un partito così. Naturalmente se voi avete visto non Saviano ma Vannacci ha aiutato la Lega e grazie a Vannacci la Lega ha incrementato di uno 0,1% le elezioni europee. Se non fosse stato per Vannacci la Lega avrebbe preso tra il 7,5% e l'8%. Infatti passata la novità di Vannacci in Europa dai sondaggi la Lega è tornata intorno all'8%. Quindi è un partito che piano piano sembra spegnersi. Anche perché l'elettorato leghista non si riconosce più nella Lega di oggi. Quelli di Bossi oggi dicono non è la Lega di Bossi. altri elettori più moderni diciamo arrivati dopo l'era bossiana dicono ma scusate cos'è sta Lega che va verso l'estrema destra che diventa filo... Quindi la Lega di Salvini sta andando verso delle strade sterrate semiabbandonate che sa solo lui dove lo portano chi lo sa. Bisoglierebbe chiedere a lui lui direbbe quindi la Meloni si sposta verso destra cioè verso il centro anche se abbiamo visto che all'interno del suo partito diciamo che questi giovani non hanno proprio l'intenzione di spostarsi verso il centro crescono tutti in un mondo in un mondo ormai che... ridicolo ecco grottesco e ridicolo quindi c'è una Meloni che si sposta verso il centro ma il suo partito è quello di tanti anni fa è quello del 2% è quello dell'1% ecco quindi la Meloni si sposta di là ma si sta tirando dietro un partito che non è propriamente un partito conservatore se lo sta trascinando dietro ma questi continuano ad alzare il braccio lei si porta dietro sto partito e dentro è tutta questa gente che alza le braccia dice ma... insomma diciamo che nel centro-destra la situazione è un po' curiosa è un Salvini che va all'estrema destra la Meloni che va verso il centro portandosi dietro il partito di quelli che alzano il braccio Tajani l'eterno numero 2 insomma a sinistra c'è il vuoto assoluto la gente vota la Meloni perché dice se non voto la Meloni perché cavolo voto eh arrivederci a tutti e grazie